La Rera, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con una delibera dello scorso 5 aprile, ha definito le modalità applicative del bonus sociale edrico dal 2018 per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico-sociale. All'agevolazione potranno accedere unicamente per l'utenza dell'abitazione di residenza tutti i soggetti singoli ed i nuclei familiari, con un indicatore ISEE non superiore a 8.107 e 50 euro, mentre per le famiglie con più di tre figli a carico il parametro ISEE non dovrà superare i 20.000 euro. Gli utenti interessati a richiedere il bonus idrico 2018 dovranno presentare domanda al proprio comune di residenza o ai CAF delegati dal comune. La richiesta di bonus potrà essere formulata solo dal 1 luglio 2018 e consentirà comunque al beneficiario di vedersi riconosciuto un ammontare una tantum a partire dal 1 gennaio 2018. Dunque gli eventi diritto potranno usufruire di uno sconto in bolletta pari al costo di 18,25 metri cubi annui, equivalenti a 50 litri al giorno, cioè il quantitativo minimo stabilito per legge per il soddisfacimento dei bisogni personali per ciascun componente del nucleo familiare.